Bisogna cercare dei miracoli quotidiani perché in costanza di obblighi di norma, cioè la manutenzione delle strade, scuole, ponti, non avere la certezza delle risorse mette un'ansia abbastanza forte. Non solo le tasse, l'IPT, l'imposta di trascrizione, non solo la parte dell'RC auto che va alle province, ma anche la TEFA, cioè la tassa aggiuntiva sui rifiuti, sono le tre voci principali oltre ai trasferimenti legati ai fondi pluriannali. Bisogna cambiare modalità di finanziamento, bisogna avere certezza per garantire la sicurezza e lo sviluppo dei territori, la sicurezza delle strade, dei ponti. Noi conosciamo, abbiamo conosciuto tragedie molto importanti al confine con la nostra provincia e poi vediamo la difficoltà nel poter uscire da situazioni dove i cittadini, le imprese rischiano di rimanere o isolati o andare fuori mercato. Quindi nell'interesse delle istituzioni, della politica, trovare soluzioni che diano stabilità e non con queste modalità di finanziamento perché non sono più attuali, una cosa che magari potevamo andare bene 30 anni fa, 20 anni fa, oggi è superata. Bisogna trovare criteri diversi, modalità diverse proprio per rilanciare le province, i comuni che non sono capoluogo chiaramente di provincia e i territori. Rischiamo se no che oltre all'invecchiamento i nostri territori periferici vengono piano piano abbandonati perché non si riescono a garantire veramente i servizi, le istituzioni, scuole, manutenzione. Grazie.